Giuseppe Arcimbordo è un pittore del XVI secolo che è tornato alla fama, ammesso che mai l'avesse persa, soprattutto grazie all'Expo che c'è stato l'anno scorso a Milano, in quanto uno dei suoi quadri è diventato praticamente il simbolo della manifestazione. Era noto perché raffigurava personaggi famosi utilizzando elementi vegetali, cioè frutta, verdura, che costituivano questi volti grotteschi e abbastanza inquietanti. Ma erano, come si ritiene, un parto della sua eccezionale fantasia o forse, come considera qualcuno, questi personaggi esistevano davvero e Arcimbordo li aveva visti. È possibile che questi uomini verdi, questi green men, che a volte compaiono anche in raffigurazione nelle nostre chiese, siano esistiti davvero e magari vivano nascostamente insieme a noi. Grazie.